Fiorentina 2, Milan 0 e tutto ciò con più di 60, 80 milioni di euro di differenza tra le due campagne acquisti. Cari milanesi, capite una cosa, non bastano i soldi per vincere le partite, così come non bastano i soldi per conquistare la donna dei vostri sogni. Questo sia di lezione per tutti, da Berlusconi all'impiegato che guadagna 1600 euro al mese. Ci vuole il cuore per vincere. Ciao.